oh giovani amici di facebook siamo al centesimo in cauto unboxing incredibile ho iniziato più di due anni fa ormai a fare questo format per lega nerd molto particolare insomma comunque riconosciuto insomma non ho certi inventato nulla però ho provato così per scherzo senza grandi mezzi montavo un action cam dall'alto con un braccio improvvisato avevo solo quella e insomma i primi i primi unboxing erano veramente molto brutti lo metto come normale poi nel tempo insomma mi sono evoluto ho comprato attrezzatura migliore luci insomma mi sono trasferito anche in uno studio molto più grande in cui c'è proprio un'area addirittura dedicata proprio agli unboxing che ha sulla parete apposta a quella che vedete dietro di me insomma la parete verde che ormai diventa famosa per i miei in cauto unboxing come back verde no per tutti quanti gli oggetti che vi ho fatto vedere e poi anche questa parete rossa invece dietro di me qui in redazione che utilizzo come retro per quando faccio queste piccole intro insomma è cambiato tanto il cauto unboxing e credo insomma io ho deciso questa cosa che dopo 100 video è ora di trasferire il format su un canale youtube dedicato me l'avete richiesto in tanti c'è tantissima gente che magari segue il canale qui su youtube di lega nerd solamente per i miei unboxing oppure solamente per per esempio i format di robie o della gabriella e magari vogliono vedere solamente quel particolare format quindi comincio a separare un po le cose che secondo me su youtube funziona meglio e da oggi insomma creo un nuovo canale completamente dedicato a incauto acquisto vi invito ad abbonarvi ma avrò messo immagino tasti un po ovunque e quindi andate anche in descrizione fosse più facile da mobile e andate ad abbonarvi e iscrivervi al canale al nuovo canale di incauto acquisto trovate il link in descrizione oppure nei bottoni che sono qui attorno e ci sono già dei video li ho già girati e si parte oggi proprio con l'uscita della playstation 4 pro con un bel unboxing della playstation 4 pro quindi abbandono insomma questo questo canale diventiamo un po un network di canali oltre lega nerd nasce oggi anche in auto acquisto e vedrete che in futuro avremo anche altre novità proprio più verticali sui nostri singoli format e quindi più dedicati a chi semplicemente vuole seguire uno solo dei nostri format senza avere invece questo put purri che abbiamo fatto fino ad oggi insomma bando alle ciance questo video finisce qui e continua nel nuovo canale ci vediamo di là ciao ragazzi ciao